Professor Vincenzo Pepe, presidente di Fare Ambiente, da oggi, se non sbaglio, professore è anche responsabile Ambiente della Lega, vero? Sì, sì, proprio da oggi. Devo dire che sicuramente l'ambiente è il primo valore, perché l'ambiente è la qualità della vita, l'ambiente è la salute delle persone, l'ambiente è anche la tecnologia, perché la tecnologia non va demonizzata, va resa sostenibile. Per fare lo sviluppo occorre calcolare un rischio, la sostenibilità è il calcolo del rischio, il rischio zero non esiste, anche per le macchine elettriche. Tutti vogliamo la transizione per la qualità della vita, ma la transizione comporta un tempo ed è anche un fatto culturale. Pensare che domani mattina noi elimineremo, e bisogna eliminare o quantomeno ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, se non altro, non tanto per il cambiamento del clima, ma per la salute delle persone, questo va fatto nei tempi giusti, ovviamente avendo anche le risorse sufficienti senza gravare poi sui consumatori, sui cittadini, che sicuramente da soli non possono sopportare questo onere. L'addio dei motori termici entro il 2035 può in qualche modo rischiare di strangolare l'economia, professore? Assolutamente, questo è un fondamentalismo ideologico, che purtroppo anche l'Europa molte volte lo cavalca, bello, romantico, ma non è molte volte fattibile, non è realizzabile. Io, guardi, noi non dobbiamo essere né catastrofisti né negazionisti, dobbiamo essere sostenibili. Cioè l'ambientalismo deve essere declinato in termini di ragionevolezza, di buonsenso, calcolando i tempi, senza sforzare né l'economia da una parte né invece l'esigenza di una buona qualità della vita. L'ambiente, e poi c'è un altro problema, che è l'incentivo della macchina elettrica, oltre al rischio, vabbè, quello è minore forse delle batterie, ma c'è l'esigenza di nuova energia, c'è un aumento di fabbisogno elettrico. E l'aumento di fabbisogno elettrico comporta anche le motivazioni, o da dove la prendiamo l'energia? Chiaramente no, altrimenti si rischierebbe di inquinare di meno con l'auto elettrica, ma poi di inquinare di più per la produzione di energia, se non è da fonti rinnovabili. Andiamo verso una società ancora più con aumento di bisogno di elettrico. E poi mi dispiace che molte volte, anche in Sardegna, in questo momento, non c'è una politica regionale che incendiva il solare. Ma io dico che il mix energetico è quello che è tanto rinnovabile, ma secondo me nel rinnovabile noi non dobbiamo e non possiamo far meno anche del nucleare. Mi rendo conto che questo è contro un fondamentalismo ideologico, ma io anche da ricercatore, da professore, devo dire, incendivare la ricerca sul nucleare, se non altro anche per la medicina. Grazie alla professora Vincenzo Pepe, appena nominato responsabile ambiente della Lega. A presto a Drexglim.